Salve, io sono Beatrice Formigli, sono infermiera della radioterapia oncologica dell'ospedale di Careggi e aggiungo solo un grazie enorme perché il nostro reparto aveva veramente bisogno di questa splendida iniziativa che mi ha veramente commosso per i colori, per l'impegno, per la bellezza che si vede proprio nei lavori fatti dai ragazzi grazie, grazie, grazie anche a nome di tutti i pazienti che verranno presso il nostro istituto